Quesito 6 determina il numero reale A in modo che il valore di questo limite sia un numero reale non nullo. Graficamente sen x meno x è la differenza, qui colorato in rosso, tra la bisettrice e sen x. Entrambe le funzioni x e sen x sono infinitesimi. Per x che va a zero, la loro differenza è un infinitesimo di ordine superiore. Infatti si assottiglia più rapidamente sia di x che di sen x, che sono infinitesimi del primo ordine. Vedremo che questa differenza è un infinitesimo di terzo ordine, cioè si assottiglia come x alla terza. Per dimostrarlo chiamo g la funzione sen x e la sviluppo in serie di McLaurin, cioè in un intorno di x uguale a zero. Il valore del seno in zero è zero, come si vede anche dal grafico. G zero uguale a zero, poi calcolo le prime quattro derivate, che sono coseno, meno seno, meno coseno, seno. E queste derivate le devo calcolare in x uguale a zero. E quindi ottengo i valori uno, zero, meno uno, zero. Quindi questo coefficiente g primo zero vale uno, questo vale zero, questo vale uno, zero, anzi questo vale meno uno, eccolo. E quindi sostituendo i valori nello sviluppo generale di McLaurin ottengo che sen x è x, che è questo primo termine qua. Il termine di secondo grado non c'è, il termine di terzo grado è meno uno, g terzo di zero, diviso 3 fattoriale 6 per x alla terza. Poi non c'è il termine di quarto grado, perché il coefficiente è zero e quindi si va direttamente all'ordine quinto grado, x alla quinta e così via. Quindi a meno di ordini di quinto grado o superiore, la differenza sen x su x si può esprimere come meno un sesto x alla terza. La vado a sostituire nella funzione f, quindi meno un sesto x alla terza, più termini di ordine almeno di quinto grado, che sono tutti infinitesimi molto più veloci per x che va a zero. E quindi effettuando la divisione con x alla a, vediamo che questa funzione che si ottiene al limite x uguale a zero, x che tende a zero, diventa un numero soltanto se a è uguale a tre. A uguale a tre in questo caso la funzione tende al valore meno un sesto. dal momento che i termini di ordine superiore vanno a zero anche loro. Quindi il numero a richiesto vale tre e la differenza fra x e sen x si riduce nell'intorno di zero come una cubica di terzo grado, quindi del tipo x alla terza sesti.